Ciao a tutti amici, come mi è stato richiesto in questo video troverete 10 musiche più famose dei grandi compositori come Beethoven, Mozart, Rossini ed altri che potete utilizzare gratuitamente per i vostri video tutorial. Se vi è stato utile, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e cliccate un bel mi piace. Nei prossimi giorni ne pubblicherò altri con diversi temi. Buona visione e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.